Dal 31 ottobre al 20 novembre, presso la Sala Esposizioni San Michele a Fano, in Via Arco d'Augusto, sarà aperto al pubblico l'allestimento dal titolo Fanesi in Mostra, curato dal professore Dante Piermattei. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, che di recente ha acquistato oltre 4.000 scatti fotografici e che ora pensa di utilizzare per organizzare diverse mostre tematiche come questa, che per l'occasione vedrà esposte 47 tavole in grande formato. Sono immagini di personaggi, militari, paesaggi, funzioni religiose, tutte scattate nel contesto fanese a partire dagli anni 20 fino ai giorni nostri, in cui ora troviamo racchiuso il tesoro di un secolo di storia.